Va a cena tranquillamente, con calma. Ultime notizie, sì, buonasera, buonasera Marcello, in attesa dello speciale calciomercato delle 23. 22.58. 22.58, ci saranno tante notizie. Sei di testa, eh? Come? Sei di testa. Sono di testa, sì, assolutamente, anche le mie origini lo ricordano. Detto questo, vi ho seguito, ho seguito anche la bella festa del Torino dopo la bella festa dell'Atalanta. Siamo in piazza così come siamo sui campi, questo è comunque molto importante perché conferma quello che comunque ci riconoscono un po' tutti, che Sport Italia non guarda a Milan, Juventus, Inter e Napoli, ma guarda all'Italia, all'Italia del pallone. Quindi siamo sui campi per le amichevoli, oggi abbiamo seguito il Palermo e il Torino, abbiamo seguito la Lazio nei giorni scorsi, seguiremo la Roma, l'Udinese nei giorni più avanti, quindi questo ci fa molto piacere. Siccome l'altro giorno abbiamo parlato tanto dell'Atalanta per il mercato con l'arrivo di Facundo Parra, un grandissimo colpo di Pierpaolo Marino, oggi l'approfondimento è scontato, dedicato al Toro, al Toro che ritorna in Serie A, un Torino che a mio avviso sta facendo i passi giusti, non fa il passo più lungo della gamba perché in questo momento la crisi del calcio italiano lo dimostra, la crisi tra virgolette del mercato del Milan, della stessa Inter, costretta a vendere coloro che guadagnano più di 3,5 è importante. Il Torino sa bene che tornare in Serie A significa tornare con il giusto equilibrio e tornare con un progetto importante e credibile. Le dichiarazioni del presidente Cairo che ho ascoltato sul palco, ovviamente riferite al tecnico Gian Piero Ventura, secondo me sono delle dichiarazioni molto importanti e sensate allo stesso tempo. C'è un progetto tecnico costruito attorno ad un allenatore, c'è un progetto tecnico che la squadra ha messo giù lo scorso anno e ha raccolto dei frutti straordinari. Lo scorso anno erano qui un po' il Torino mi ricorda, dello scorso anno mi ricordava l'Udinese, quello che ieri ha detto il patron Gian Paolo Pozzo. Ci mettono quattro in pagella e arriviamo quarti, terzi e va bene così. Al Torino dicono sempre che le cose non vanno bene, lo scorso anno non hanno vinto il campionato a Torino, lo hanno stravinto. Oggi è arrivata l'ufficialità di un giocatore che io lo scorso anno ho seguito con attenzione, Damiano Ferronetti. Prendere Ferronetti a parametro zero secondo me significa essere molto molto intelligenti. E non aver preso Mesba, allo stesso tempo io penso che il mancato colpo Mesba sia un mancato colpo per Mesba e non per il Torino. Detto questo ci aspettiamo ancora 4-5 colpi perché arriveranno al Torino e sono abbastanza certi. Poco prima della pubblicità, in attesa che arrivi il presidente Cairo da Marco Terrenato in diretta da Sappata, abbiamo chiacchierato con Ventura e con Petracchi. Soprattutto con Ventura abbiamo parlato di quelli che sono i giocatori adatti a quello che è il modulo, il 4-2-4 spregiudicato di Ventura. E Ventura ha detto io ho chiesto a Cairo Rubinio però lui non mi ha contentato. Visto che vi occupate di calciomercato fate voi i nomi. Michele, quelli possono essere i nomi per il Torino? Il Toro ha degli obiettivi ben precisi e quello che sta facendo il direttore Petracchi con le indicazioni ovviamente del presidente Cairo è un mercato intelligente perché se tu vuoi prendere Mesba e poi vedi che il calciatore non è motivato oppure c'è una differenza economica, stiamo comunque parlando di Mesba, non stiamo parlando di Maicon, a questo punto a Torino deve andare gente motivata perché ricordiamo questa maglia Granata è una maglia che allo stesso tempo pesa. Il Toro ha 4-5 obiettivi molto molto importanti, i nomi non ne facciamo perché li abbiamo fatti in passato ma Petracchi sta giocando giustamente su più tavoli. Ho sentito le dichiarazioni che ha rilasciato sulla vicenda Pazienza di Polito dicendo che il Torino si è comportato male, secondo me il Torino non si è comportato male, ognuno fa i propri interessi, gli interessi del Torino sono abbastanza chiari. Prendere il giocatore con la convenienza maggiore, sia a livello tattico, tecnico ma anche a livello economico. Se poi si devono buttare soldi, secondo me i tifosi devono ragionare che i soldi non si possono buttare, non li butta il Milan, non li butta l'Inter non vedo perché li debba buttare il Torino. Scusami, mi fermo. Tu mi hai fatto la domanda e ti ho risposto. No, no, siamo pronti. Eccola qua, la bassa frequenza anche in onda. Urbano Cairo con Marco Terrenato da Sappada. Cravatta granata per il Presidente, d'ordinanza. Buonasera. Assolutamente sì, infatti. Buonasera a voi. Buonasera e grazie. Buonasera Michele. Buonasera Presidente. Ascoltato tutto quello che avete detto sul Torino finora? Buonasera a tutti. E quindi? C'è qualcosa da aggiungere? C'è qualcosa da aggiungere. Ecco, appunto, ora chiediamolo al Presidente Caro. Ha detto bene Michele? Ha detto benissimo, no? Relativamente a Mesba, tanto per precisare, diciamo che il giocatore era stato concluso con il Milan martedì scorso. Poi noi abbiamo dato il tempo al giocatore di pensare perché aveva avuto un'offerta dall'Olympique di Marsiglia. Lui poi ha preferito rimanere al Milan, ma non c'era nessun tipo di differenza economica. Noi eravamo già d'accordo con il Milan e con il giocatore non c'erano problemi a trovare un accordo. Per cui è una scelta sua e a noi va benissimo così. Credo che la cosa importante sia di prendere giocatori che sono altamente motivati. Diversamente è meglio non prenderli. Tra l'altro, aggiungo, siamo circondati dai tifosi del Torino. Prima sul palco, insomma, Ventura ha fatto delle richieste ufficiali. Lei ha risposto, soddisferà le richieste di Ventura? Sì, ma assolutamente sì. Diciamo che noi avevamo un obiettivo con Ventura che era di arrivare qui a Sappada con l'80% della rosa. E questo è stato con un finale, diciamo, con la settimana scorsa, con tre colpi importanti come Gazzi, come Sansone e come Sant'Ana. Poi dopodiché, ovviamente, oggi noi abbiamo l'obiettivo di completare una rosa che già è certamente una buona rosa, ma ovviamente ha bisogno di qualche innesto ancora di qualità. Col mister siamo totalmente d'accordo che ci serva un terzino sinistro, ci serva ancora un centrocampista e poi una seconda punta e un esterno di qualità. E questi quattro giocatori sono l'obiettivo che noi abbiamo, diciamo, per i prossimi giorni barra entro la fine del mese di luglio. Ora, non voglio dire che questa è una promessa assoluta, però certamente l'obiettivo è di arrivare da qui al secondo ritiro di Omenia con, se non tutti e quattro i giocatori presi, perlomeno una buona metà o quindi almeno due barra tre. Per cui adesso chiaramente siamo al lavoro, come già eravamo al lavoro, per riuscire in questo intento. In questi quattro giocatori si possono fare dei nomi, oppure dare delle indicazioni su dove possiamo andare a parare per cercare di capire questi quattro giocatori. Noi tre li abbiamo già individuati. Ma guarda, io dico fare dei nomi oggi è una cosa che preferisco evitare, perché poi i nomi, ci sono già tantissimi nomi sul mercato che circolano qua e là. Secondo me la cosa migliore è avere la capacità di tenere un pochino sotto traccia qualche nome importante per noi e poi andare decisamente su questo giocatore, su questi giocatori per definire. Ma fino a quando i nomi escono in maniera indiscriminata, poi diventa tutto molto più complicato, difficile e la concorrenza evidentemente aumenta. Quindi il tema nostro adesso è cercare di avere degli obiettivi chiari in mente, e li abbiamo, e cercare di concluderli il più presto possibile. Noi siamo molto bravi a dissotterrare quelle che sono le situazioni di sottotraccia, vero Michele? No, sappiamo che comunque il Torino farebbe ben volentieri la spesa ad Udine, la spesa nel senso che comunque l'udinese ha qualche calciatore forse in sovranumero, sappiamo bene che comunque al Toro, al Presidente, al Direttore Petracchi, all'allenatore Gianpiero Ventura piaceva e piace molto Barreto, che oggi non ha partecipato alla prima amichevole stagionale davanti agli occhi di Pozzo Senior e Pozzo Junior, Barreto, ma soltanto per una defezione, per un problema fisico. Piace Barreto e la seconda punta che diceva il Presidente Cairo potrebbe essere proprio idoneo e funzionale al gioco di Ventura perché lo conosce bene dai tempi di Bari. Per quanto riguarda l'esterno, ad Udine tra Coda e Pasquale, secondo me Pasquale alla fine non partirà, però Coda potrebbe essere davvero una buona soluzione per il Torino, un giocatore che potrebbe piacere. Poi di sicuro fa bene il Presidente a non dire tutto, anzi a non dire nulla, proprio perché alla fine l'avrà vinta lui, anche perché ti caccia il jolly quando nessuno te lo aspetta e anche noi in quel caso possiamo rimanere molto probabilmente spiazzati. Presidente! Ha detto tutto Michele, io lascio dire a lui, lui è bravissimo e sa molte cose più di me. Su Udine diciamo che io ho un buon rapporto con Pozzo, però poi quando ho fatto affari con lui in realtà gli affari li ha sempre fatti lui, quindi ho un minimo di ritrosia, però poi lo stimo molto. Gino Pozzo, Gian Paolo Pozzo hanno fatto veramente molto bene calcio e quindi vanno presi ad esempio. Io, certo, poi quando ti avvicini a loro sicuramente devi stare sempre molto attento perché sono talmente bravi che purtroppo a volte rischi di fare sempre delle cose che sono magari un po' in eccesso rispetto ai reali valori, però lo dico questo anche con simpatia nei loro confronti. Voglio fare solo una domanda al Presidente Cairo che ci ascolta.